Il mio compito è un po' quello di cercare di inquadrare questo documento che io definisco bellissimo, subito devo dire, io da cattolico devo dire, non l'avevo letto, ringrazio il collega Marco, non l'avevo letto, quindi chiedo scusa, però quindi ringrazio il collega Marco che mi ha dato la possibilità di leggere questo documento che è veramente incredibile e ricco di spunti di altissimo livello. Altissimo livello che sono spunti sia per chi o loro che hanno una funzione nell'ambito dell'economia, ma devo dire la verità, come è stato molto attentamente già ricordato negli interventi precedenti, ricco di spunti per chi questa disciplina che è l'economia politica, la studia di professione, la esamina, la studia di professione, quindi l'economia e la finanza sostanzialmente. Quindi è un documento assolutamente imprescindibile a mio parere. Ci sono tantissimi spunti, io non ne toccherò ovviamente tutti perché altrimenti non potrei avere certamente il tempo sufficiente, però vorrei suscitare la curiosità, vorrei puntualizzare alcuni aspetti e vorrei sottolineare alcune cose che nel documento invece non ci sono, che magari potrebbero essere interessanti per una riflessione futura. Allora, primo tema, il tema della disuguaglianza. Il tema della disuguaglianza ormai è un tema che va assolutamente, come dire, per la maggiore, se posso permettermi un'espressione un po' colloquiale, però è il tema che deve occupare la riflessione, sia dal punto di vista della teoria, sia dal punto di vista di chi gestisce l'economia, sia dal punto di vista dello Stato, sia dal punto di vista delle organizzazioni economiche nel suo complesso. E dobbiamo porci una domanda. La crescita che noi oggi abbiamo osservato fino ad oggi genera disuguaglianza? Punto di domanda. Il sistema di capitalismo, il sistema economico che noi abbiamo genera disuguaglianza endogenamente? Sono tutte tematiche queste alle quali non abbiamo delle risposte certe. I dati sembra che ci dicano di sì, perché noi oggi osserviamo che abbiamo uno 0,46% della popolazione che detiene più o meno il 42, 41, 42% delle risorse mondiali. Quindi stiamo parlando di un'enormità nella crescita della disuguaglianza. Però va anche detto questo e dobbiamo chiederci da dove origina questa disuguaglianza. Paradossalmente alcune delle politiche economiche che noi siamo stati costretti a mettere in atto per uscire da alcuni problemi della crisi sono state generatrici di disuguaglianza. Penso ad esempio, e dico una cosa che potrebbe sembrare paradossale, ma è così, penso ad esempio al famoso tema del quantitative easing. Il quantitative easing, che sappiamo è stata questa operazione messa in atto dalla Banca Centrale Europea, consistente nell'acquisto di grossi quantitativi di titoli sia pubblici, sia obbligazioni corporate con determinato rating, detenute dalla Banca Centrale fino a scadenza a fronte di creazione netta di moneta, questa politica, non solo in BCE, ma anche negli Stati Uniti, eccetera, ha generato, ha immesso sui mercati una massa di liquidità enorme che ovviamente è andata dove? È andata a inserirsi negli investimenti prevalentemente di mercato azionario e non solo mercato azionario e obbligazionario, ma anche investimenti ad alto rischio. Ma il tema è chi ha potuto avvantaggiarsi di questi elevati rendimenti? Infatti se noi osserviamo i corsi di borsa negli ultimi 4-5 anni, la borsa è andata sempre in crescita. Chi ha potuto avvantaggiarsi? Chi era già investito in talune cosiddette asset class, evidentemente. Chi non era investito non ha potuto avvantaggiarsi di questo fenomeno. Quindi in qualche maniera c'è un tema di generazione endogena della disuguaglianza ad opera di talune politiche economiche. E quindi anche dobbiamo porci il tema qual è il ruolo della finanza come generatore di disuguaglianza. E qui il documento mette in evidenza diversi aspetti. Viene citato ovviamente prima di tutto il tema dell'intermediazione bancaria e creditizia. Ma il grande tema, a mio parere, è l'accesso delle persone ai servizi finanziari. Qui il documento, in maniera veramente molto lungimirante, punta il dito su uno degli aspetti che spesso viene trascurato nel dibattito, diciamo, sull'economia, che è il tema dell'intermediazione finanziaria e della consulenza finanziaria. Questo è un tema incredibile, perché questo va a toccare appunto il tema dell'accesso alla finanza. Perché se soltanto persone che hanno elevate disponibilità economiche hanno la possibilità di avere accesso, evidentemente, agli investimenti finanziari ad alto rendimento, è evidente che le disuguaglianze non potranno far altro che aumentare. Viceversa, se noi siamo dotati e abbiamo la possibilità di avere un sistema di soggetti, di consulenti finanziari eticamente ben formati, che hanno la capacità di attirare investimenti, di attirare liquidità, anche da parte delle persone che hanno poco, diciamo, risparmio, ma vogliono crescere, e questo però genera una maggiore opportunità, questo dà delle opportunità anche a chi non ce le ha. E questo però è un problema. È un problema molto importante. Il documento, ad esempio, mette in evidenza una delle tematiche, che è legata a quella che ho appena finito di dire, che è il tema dell'high frequency trading. Noi sappiamo che ci sono, oggi, diciamo, le transazioni sui mercati finanziari non avvengono o avvengono in maniera molto marginale grazie all'intervento dell'uomo. Le transazioni sui mercati finanziari avvengono attraverso l'immissione di ordini e la loro eventuale cancellazione, a seconda se il mercato si è girato contro, attraverso degli algoritmi, attraverso dei computer. La latenza dell'ordine sul book, diciamo, che è il punto in cui vengono convogliati tutti gli ordini, ci sono alcuni mercati che sta solo per 8 millisecondi. Quindi vi lascio solo immaginare che cosa possa essere 8 millisecondi. Quindi nessuna persona umana può essere dotata di avere una vigilanza sul mercato di questo tipo. Quindi è evidente, anche quando noi facciamo trading da soli, da casa, ci autoconvinciamo di essere dei bravi trader con il nostro computer, nel momento in cui abbiamo acquistato un titolo, esattamente, anche se lo rivendiamo dopo pochissimo, ce l'hanno tolto e messo sullo schermo almeno altre 200-300 volte, senza che noi ce ne accorgiamo. Allora, il punto qual è? Qual è il vantaggio e qual è lo svantaggio di questa cosa? Perché il documento, una delle cose veramente incredibili di questo documento, è che non prende una posizione negativa sugli strumenti dell'economia. Questo, secondo me, è il vero punto di forza di questo documento. Perché io non sono uno dei detrattori dell'high frequency trading. Perché l'high frequency trading ha avuto un vantaggio, se noi andiamo a vedere i dati degli ultimi 5 anni, che ha avuto la capacità di smussare le fluttuazioni eccessive della borsa negli ultimi anni. Noi ne abbiamo avuto pochi salti. Abbiamo avuto dei cali, abbiamo avuto delle crescite, ma non osserviamo più quei repentini salti verso l'alto o verso il basso che avevamo nel passato. Perché è uno strumento che serve per livellare il terreno di gioco in qualche maniera. E questo è un dato positivo. Il dato negativo è che gli extra rendimenti che si generano attraverso questa attività di trading ancora una volta sono appannaggio di pochi. E quindi il vero punto importante è cercare di rendere questa strumentazione, queste opportunità, di distribuirle, dare la maggiore possibilità a tutti di poter entrare e prendere parte in questo gioco. Che oggi purtroppo non è così. Allora ci sono altre tematiche importanti. E dobbiamo chiederci la libertà dell'uomo in economia. Da dove sorge una delle limitazioni più importanti nella libertà dell'uomo in economia? È il problema del debito. Questo è connesso con una delle tematiche che è, come dire, legate al tema della crescita. Noi economisti ci stiamo facendo delle domande in questo momento che sono abbastanza complesse. E uno di queste è siamo in una fase, come vengono definite in letteratura, di new normal. New normal vuol dire siamo in una fase in cui non potremo più crescere a tassi di crescita sostenuti. Quando dico tassi di crescita sostenuti dico superiori al 3% annuo. E questo è un tema non banale. Perché se noi siamo in un new normal, noi sappiamo che i tassi di crescita diciamo per l'Italia quest'anno dovremmo stare tra lo 0,5 e lo 0,9%. In area dell'euro dovremmo stare tra l'1 e il 2%. Quindi sono tassi di crescita importanti ma non sono così esaltanti. Il punto qual è? Come può crescere una società a questi tassi di crescita? Non cresce. Non cresce purtroppo. Quindi dobbiamo porci degli interrogativi. Da un lato come poter fare in modo di crescere? Certamente. Ma dall'altro come alleviare il problema della non crescita? Per chi non riesce ad appartenere al gioco non riesce ad essere parte di questo gioco. E quindi qui il tema della finanza quando è eticamente ben fondata entra in gioco. perché se io sono in grado di costruire degli strumenti finanziari che servono anche come strumenti di copertura per delle situazioni di reddito insufficiente io penso ad esempio a quella molteplicità di situazioni tristissime che rivestono le persone che a non hanno i soldi per curarsi e questo lo leggiamo dai giornali eccetera e b persone che non riescono più a pagare le proprie rate dei propri mutui delle proprie obbligazioni quindi anche qua bisognerebbe veramente fare un salto in avanti e creare degli strumenti finanziari che possono servire come meccanismo assicurativo in qualche maniera per le persone che sono in difficoltà e questo lo può fare solo la finanza non ci sono altre soluzioni solo la finanza perché paradossalmente qui dico questo è un paradosso dei paradossi la creazione di rendimento dalla carta carta su carta capisco è una cosa negativa ma quello che è negativo è l'appropriazione della redditività non la sua redistribuzione quindi il tema è cercare al massimo grado di dare il massimo accesso alle persone a queste tipologie di strumenti altra tematica torno sul problema del debito il problema del debito è un problema incredibile se noi osserviamo il debito le quantità di debito che si sono generate negli ultimi diciamo dieci anni sono mostruosamente elevate e paradossalmente il debito pubblico italiano che esso è 132% 130% 131% del PIL è in qualche maniera una sciocchezza confronto al resto guardiamo per esempio i dati sul debito privato il debito privato dell'Italia gli italiani più o meno hanno un debito privato che è pari al 50% del loro reddito circa se noi andiamo a confrontarci in Europa abbiamo una media che sta tra il 95% e super ampiamente va al 150 180% in taluni casi e questo si è un parola del debito privato del singolo individuo e allora qui si pongono dei problemi molto seri allora prima di tutto perché la società cresce a debito perché vengono indotti meccanismi di creazione del debito qui il documento lo dice chiaramente lo dice chiaramente perché il tema è un atteggiamento nei confronti del consumo perché spesso volentieri il debito è come dire condizioni necessarie per la generazione di consumi anche evidentemente non necessari e qui la gestione di questo debito pone dei problemi importanti e limita la libertà delle persone ma anche su questo devo aggiungere un altro punto noi siamo spesso abituati a pensare che lo Stato abbia una funzione salvifica in tutta questa situazione che è diciamo i fallimenti del mercato chiamiamoli in maniera semplice con una parola semplice i fallimenti del mercato e non è così lo Stato purtroppo da un lato certamente è necessario ma dall'altro dobbiamo porci se il ruolo dello Stato così come l'abbiamo pensato sino ad oggi è ancora attuale perché spesso e volentieri noi oggi siamo in un contesto dove vediamo per esempio basta parlare pensare alla regolamentazione dei fondi comuni di investimento è ovvio che tutti cercano di localizzare le loro basi di trading dove la regolamentazione è minore quindi allora lo Stato deve ripensare il suo ruolo non nel senso di essere un attore punitivo nei confronti di chi come dire genera profitti o altro in qualche maniera ma deve essere un elemento che deve permettere la massima accesso delle risorse a tutti e anche il massimo accesso alle varie professioni voglio concludere il mio intervento su due punti diciamo voglio sottolineare due punti un tema che è un tema prettamente accademico io sono molto contento che ci siano molti colleghi in sala che è il tema dell'atteggiamento degli economisti nei confronti della ricerca scientifica e nei confronti diciamo dell'analisi di nuovi paradigmi economici questo è un punto molto importante perché come dire spesso e volentieri gli economisti sono stati accusati di non essere stati in grado a di prevedere la crisi questo come dire permettetemi questo è assolutamente molto banale e b vengono accusati di avere dei paradigmi di studio e di ricerca che sono basati su un principio obsoleto qual è il principio dell'ottimizzazione delle risorse ora qui però purtroppo io devo dire due cose allora primo la capacità previsiva è molto difficile mi sono contento qui il nostro magnifico rettore è un ingegnere quindi noi abbiamo bisogno di una maggiore interazione con gli ingegneri e con i fisici da questo punto di vista perché i modelli economici non tengono dentro i termini di secondo ordine questo è un punto che va tenuto presente allora noi viviamo in un contesto in cui abbiamo tutto il secondo ordine che è la varianza e i modelli economici sulla base dei quali si fanno le previsioni non tengono i termini di secondo ordine perché tecnicamente è molto difficile riuscire a ricomprenderli quindi lo sforzo della ricerca futura dovrà essere qui cercare di avere modelli economici di previsione che tengono dentro i secondo ordine ho finito 30 secondi l'altro tema è il tema delle scuole di pensiero le scuole di pensiero in economia nel passato il professor Zamani la professoressa Giannini che sono qui con me io sono stato loro studente nel passato il dibattito in economia era molto più ampio di quanto non fosse oggi io sono cresciuto in un dipartimento in cui si discuteva in maniera molto aperta molto franca oggi nei dipartimenti non si discute più perché si è convinti che le scuole di pensiero siano soltanto una questa è una distruzione che viene indotta anche dai sistemi di valutazione della nostra produzione scientifica che è una produzione scientifica in larghissima parte dominata dagli Stati Uniti e questo è un tema all'ordine del giorno evidentemente quindi noi dobbiamo porci qualcosa perché noi non è che siamo deficitari rispetto agli Stati Uniti noi siamo economisti bravissimi non dico il sottoscritto ma ci sono tantissimi economisti bravissimi e però non hanno voce pensate che alcuni dei lavori scientifici più importanti non sono mai stati pubblicati e ci sono economisti che hanno vinto il Nobel penso a James Merlees evidentemente quindi allora dobbiamo porci questa domanda che spesso e volentieri i contributi nella letteratura dirompenti non trovano dignità perché non sono ispirati alle scuole di pensiero dominante qui dobbiamo rompere un circolo vizioso secondo me e noi come università che l'università è il luogo della libertà per eccellenza dobbiamo per forza fare questo voglio chiudere velocissimamente su una cosa alla quale so che il nostro magnifico rettore tiene in università abbiamo raccolto noi abbiamo raccolto la sfida contenuta in questo documento prima che questo documento fosse scritto abbiamo varato un master in wealth management dove noi formiamo i consulenti finanziari ok e li formiamo non orientandoli in maniera come dire predatoria uso una parola che è scritta qui ma viceversa poniamo al centro della loro agire uno la cultura la formazione perché senza formazione non ci può essere etica le due cose devono andare insieme e due l'etica noi abbiamo nel nostro corso abbiamo un corso obbligatorio di etica quindi io magari chiedo a sua eccellenza se vorrà venire a fare un breve intervento al nostro master grazie grazie a tutti grazie a tutti